Aveva intestato in modo del tutto fittizio i beni alla figlia per sottrarli così al fisco. Per questo un imprenditore a retino di 60 anni è finito nel mirino delle fiamme gialle di Arezzo. L'orafo già a gennaio si era reso protagonista di una maxi-evasione fiscale internazionale ed era stato denunciato. In quel caso la denuncia era arrivata per il reato tributario di omessa presentazione della dichiarazione e aveva portato al sequestro di beni immobili e disponibilità bancarie per oltre 150.000 euro. Ma all'atto di individuare i beni da sequestrare, la Guardia di Finanza ha scoperto che il 60enne si era spogliato di una parte significativa degli immobili di proprietà intestandole la figlia, una studentessa priva di fonti di reddito. L'assenza di capacità reddituali in capo alla giovane, la coincidenza delle compravendite effettuate in date immediatamente successiva alla conclusione delle verifiche fiscali, l'attribuzione di valori esigui e fuori mercato degli immobili trasferiti hanno costituito tutti gli elementi idoni a configurare l'alienazione simulata al solo scopo di sottrarsi al pagamento del debito nei confronti dell'erario. Il 60enne è stato così segnalato all'autorità giudiziaria per il reato tributario di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per il quale è stato disposto l'ulteriore sequestro di cinque immobili oggetto di cessioni fittizie per un valore stimato di circa 200.000 euro.